Musica 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 Le Cassandre che volevano questa piazza vuota le Cassandre i nani le ballerine i ruffiani che hanno lavorato contro questa manifestazione sono venuti Musica 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 Oggi Poste Italiane in un unico afflato da Palermo a Milano in ogni piatto d'Italia davanti all'Europa sta manifestando per difendere Poste Italiane il nostro il nostro cuore che è quello che abbiamo sempre tenuto in questi anni e che abbiamo salvato oltre ogni cosa e noi oggi abbiamo il dovere di continuare a sperare in quell'azienda che ha prodotto risultati non un modello che non ci appartiene non un modello di sistema bancario fondimentale non un sistema di broncheraggio noi siamo poste Poste Italiane la posta dei cittadini la posta della gente i nostri sacrifici i nostri sacrifici nel corso degli anni non possono andare malificati da persone da capitali di ventura da persone che un cuore non ce l'hanno mentre questa piazza il cuore ce l'ha noi lottiamo per la ripresa dei nostri posti di lavoro e quelli che oggi non sono con noi vorremmo capire cosa li spinge rispetto a un progetto che da qui a poco smantellerà poste italiane il TEP il documento economico del governo lo sancisce 2017 è l'anno della privatizzazione di poste se non cambiano le cose questa è la verità e voi capite che cosa ne consegue ecco perché oggi noi siamo venuti a manifestare e stiamo scioperando anche per quelli che hanno inteso nascondere la testa noi lottiamo anche per loro lontiamo anche per le nostre famiglie per quelli che ci sono e per quelli che non ci sono per dare un futuro ed ecco perché alle istituzioni alla politica noi ci rivolgiamo alle confederazioni che siano vicine a questa battaglia che è cruciale che ne vale la sopravvivenza di posti italiane da qui a poco noi saremmo chiamati a una scelta ben precisa e quello che sarà il futuro nostro e noi non vogliamo rinunciare il futuro senza di noi non si può scrivere non lo vogliamo per la scelta io per i del governo per i del governo che hanno in testa soltanto poche cose il cene faremo una ragione vuol dire che ci apparterà anche a noi e ci porremo dall'altra parte se tutto ciò renderà contro di noi perché noi uniti ce la faremo ragazzi forza ragazzi non vogliamo il futuro lo scriviamo insieme il futuro è nostro lo dobbiamo scrivere perché vogliano tutti quelli che ci devono contro e da questa piazza della Calabria la grande soddisfazione che il grande cuore calabrese contro chi oggi anche all'interno dell'azienda intiene di non essere un calabrese e noi ne siamo orgogliosi perché i calabresi sono qua in questa piazza e non altrove la calabria la difendiamo noi la calabria siamo noi la calabria è il popolo delle forze non sono i dirigenti non sono quelli che vengono da fuori non sono il mondo di Napoli c'era lei la calabria la calabria forza e forza e forza ragazzi oggi 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 siamo stati insieme per poco ma ne è valuta la pena questo pomo che abbiamo costruito insieme noi lo porteremo insieme a quello di tutti gli altri perché diventi il morto e perché cambi il corso della storia e ora ci lasciamo con un unico attuato un'unione di intenti che ci vedrà sempre vicini e tutti dovranno fare i conti con noi con questa piazza con chi oggi sta lottando in nome e per conto di tutto il popolo delle forze grazie ragazzi buon ritorno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti